Mr. Morizio Parello, il termine di Torricelli in questo 3-0 ha messo una prestazione importante, tre punti pesanti, come commenta la partita di oggi? Sicuramente una prestazione super, coronata da tre punti sicuramente importanti, anche da tre gol fatti e nessuno subito, che è un dato importante. La Torricelli arrivano oggi a un totale di otto risultati utili consecutive, un attore importante in quel percorso di questa stagione. Come analizza questa fase del percorso della Torricelli? Sì, un percorso ottimo, portato da un lavoro ben fatto dopo che avevamo avuto tante partite consecutive intrasettimanali, abbiamo avuto la possibilità di lavorare e fortunatamente ci ha portato sicuramente a delle prestazioni diverse e soprattutto a dei risultati diversi. Il merito del vostro lavoro è anche quello di aver messo in risalto dei giocatori come questo oggi li ha messo in grande spolvero, Iezzi, della morte, ma anche Costantino che ha ritrovato la via del gol e questo è il terzo gol stagionale per lui. Quindi c'è anche il riscontro sul campo di quello che è il lavoro settimanale? Ma sì, è un gruppo che dall'inizio noi diciamo che si applica tantissimo e cerca di migliorare veramente quotidianamente e quello sta facendo veramente la differenza e lo si vede anche quando ci sono le sostituzioni, chiunque entra quasi quasi alza ancora di più il ritmo, quindi a noi ci porta dei vantaggi. Adesso c'è poco tempo e tra la prossima partita, martedì, arriva già una trasferta molto ostica contro l'Ivanzo Sant'Eviglietta. Che partite si aspetta? Beh, sicuramente contro una squadra forse la più talentuosa del campionato, una squadra che sa giocare e che ti può mettere in difficoltà. Sicuramente da parte nostra la prepareremo bene anche se c'è poco tempo, però sappiamo quando chi andiamo a giocare e vediamo di recuperare più energie possibile. Grazie a tutti.